allora salva a tutti cari amici sono sempre io ricercatore indipendente emiliano babilonia mi stanno arrivando molte e mail molte richieste di aiuto di parecchie vittime purtroppo attaccate in tutto il territorio nazionale da queste armi da queste tecnologie di controllo e di manipolazione mentale abbiamo qui una ragazza della liguria che praticamente ci siamo sentiti sul mio canale di facebook voglio ricordare il mio canale di facebook il mio account che emiliano babilonia italia dove un account pubblico tutti quanti mi possono chiedere l'amicizia e poi voglio ricordare la mia email vittime del controllo neurale chiocciolagmail.com se mi volete mandare le vostre testimonianze oppure se mi volete contattare direttamente per poter poi fare l'intervista testimonianza allora io prima di iniziare con questa registrazione ho parlato un attimo con questa ragazza una bravissima ragazza una studiosa che addirittura stava facendo un corso importante e purtroppo noi che siamo persone che aiutiamo gli altri che diamo una parola di conforto che facciamo queste interviste testimonianza che verranno sentite dalle altre vittime e che poi prendono coraggio a interagire con noi e a unirsi nei nostri gruppi per poter ovviamente divulgare la loro situazione di attacco e di manipolazione che viene effettuata con queste tecnologie di controllo e di spionaggio delle masse sembra un film di fantascienza ma purtroppo è la realtà adesso lascio la parola a questa ragazza che vi spiegherà come l'attaccano le manipolazioni che gli fanno le voci che gli mettono in testa e tantissime altre cose che gli creano purtroppo dei gravi problemi nella vita quotidiana allora lascio la parola a questa ragazza ciao allora sono contenta di poter dare la mia testimonianza e spero di poter essere d'aiuto a qualcuno e dunque io sento le voci da tantissimo tempo tutto cominciato nel 99 quindi già un po di tempo fa fecero una specie di scherzo in cui io sentivo gente fuori da casa mia che mi chiamava mi diceva delle cose sapeva cosa stavo facendo dentro casa e io sono andata anche a cercarle intorno a casa ma chi ha questa gente che riesce mi manda delle voci e sa cosa sto facendo dentro casa questa da pure intorno a casa a cercare vedere dove erano che poi era una cosa che sentivo io non mi rendevo conto perché la mia famiglia in realtà non si accorgeva niente cioè mi rendevo conto che non si accorgevano però pensavo che fossero distratti che pensassero ad altro infatti io non ho trovati mai l'intorno dopo un po di giorni che hanno continuato così mi hanno detto ma guarda che non è che siamo intorno veramente noi siamo siamo nella tua testa mi hanno detto una cosa del genere insomma noi comunichiamo con te noi sappiamo cosa stai facendo cosa stai vedendo e lì iniziata la una specie di persecuzione un maltrattamento continuo perché poi prendevano in giro offendevano poi mi sentivo spiata giustamente riuscivano a vedere dentro casa non capivo come perché non riusciva a capire come ci riuscivano era tutto molto strano ti chiedono ma neanche hai sentito parlare di queste cose quell'epoca lì non sapevo nulla e poi mi dicevano è tranquilla tra un po ce ne andiamo e non se ne andavano mai rimanevano tutti i giorni tutti i santi giorni e loro riuscivano a a parte sapere cosa facevo riuscivano come dire a farmi stare male a disagio insultavano riuscivano a farmi arrivare immagini anche nella mente delle cose che io non volevo pensare ma loro riuscivano e ridevano di me era una persecuzione continua ed è durato tantissimo è durato tantissimo ero preoccupata anche per la mia famiglia perché loro non si accorgevano di nulla io lo dissi pure alla mia famiglia siamo guardate che sta succedendo questo ero anche quasi disperata e loro hanno visto che ero in questa situazione hanno pensato che fu uscita di senno erano preoccupatissimi e quindi insomma ho avuto i miei problemi anche con loro per queste cose qua perché insomma sembravo quasi veramente fuori di senno almeno come si dice che sono le persone fuori di senno perché poi a sto punto ho rivalutato tutto le persone fuori di senno non sono poi tanto fuori di senno sono obbligate sono indotte ad arrivare a questi livelli in cui sono disperati o in cui vedono cose immaginano cose o sentono cose quindi all'epoca però non lo sapevo era tutta una cosa strana e mi hanno trattato malissimo veramente malissimo per quattro anni interi io mi ricordavo ogni cosa che mi dicevano e ogni tortura mi ricordo c'era la vivevo veramente malissimo perché poi sono maltrattamenti non veramente fisici non c'è nessuno lì vicino che ti fa del male è tutto un collegamento al cervello e siccome il cervello ha gli impulsi elettrici quindi il cervello domina il corpo se tu tocchi il cervello domini tutto quindi sensazioni dolori qualsiasi cosa loro volessero anche il mio reagire alla fine alla situazione potevo anche arrabbiarmi potevo reagire in un'altra maniera invece era anche quello indotto da loro cioè io mi disperavo perché mi obbligavano a disperarmi perché era un domino del cervello quella che io non avevo capito pensavo di essere io sentivo loro piangevo stavo male o reagivo male invece no erano sempre loro loro avevano creato tutta la gag tutte le situazioni le creavano loro questo però lo seppi molto dopo quindi arrivò questa cosa questa situazione cioè sono quattro anni quattro anni di seguito in cui insomma l'ho vissuta malissimo a un certo punto non riuscivo quasi a reggermi in piedi ero totalmente veramente in uno stato pietoso non mi rendevo conto che avevo difficoltà in tutto perché io anche lavoravo tutto quanto quindi quindi insomma ero proprio vedevo che le cose non andavano bene per niente ho detto ma qui se continuano così c'è cosa c'è cosa faccio esplodo cosa devo fare non non c'era più una possibilità ho pensato anche al peggio ho pensato per vivere così la vita mi tolgo di mezzo almeno sto me c'è una volta che uno è morto è finita no e lì si sono fermati lì allora hanno calato le voci fortissime che io le sentivo nella testa ma sembravano sentirle con le orecchie vicino erano fortissime non sentivo neanche più i miei familiari parlare perché sentivo loro e non c'è loro hanno abbassato i volumi così che dico io hanno abbassato i toni sentivo tutto più più soft più leggero sono mi hanno fatto dormire quasi non dico due giorni di seguito ma ci sono quasi arrivata e poi c'è dopo che mi sono svegliata punte cala sono calati i toni e hanno rallentato moltissimo nel nel lesionarmi non che abbiano smesso del tutto è perché comunque si facevano sentire le solite i soliti insulti farmi sentire a disagio eccetera eccetera però era un po più sopportabile se vogliamo dirla così cioè mi disperavo stavo male ma con un certo contegno riuscivo a lavorare riuscivo bene o male davvero non dico una vita sociale perché comunque non è facile però un minimo minimo proprio e e questi sono stati i primi anni e da allora non mi hanno più lasciato da allora ogni giorno ogni santo giorno qualcosa dovevano sempre dire dovevano sempre mostrarsi presenti stati dei periodi più difficili periodi un po più leggeri soprattutto in base a come forse io ero impegnata nella vita se avevo qualcosa da fare un impegno che mi doveva distrarmi in cui dovevo io concentrarmi mi lasciavano un po in pace e avevo la possibilità ma appena toglie mi toglievo dal dal lavoro che facevo dalla dall'impegno ritornavano addosso sono stati periodi diversi sembrava quasi che cambiassero i personaggi perché poi alla fine nella mia mente erano quasi delle persone non hanno fatto finta di essere dei miei compagni di classe una volta un'altra volta ha fatto finta di essere altre persone che vivevano vicino a me poi dopo mi dicevano cioè alla fine capivo che non erano loro ma in quel momento li dovevo essere obbligata a pensare che c'erano loro e quindi insomma stati delle sono stati pensieri obbligati e niente durante tutti questi anni ho imparato che cosa come vengono usate queste armi perché loro nel frattempo che mi hanno maltrattato però mi facevano capire come all'inizio non capivo che le mie voci arrivavano nel cervello me l'hanno spiegato e altre cose che io non capivo loro piano piano me l'hanno spiegato quindi alla fine adesso io so cosa sono le capacità di queste tecnologie queste tecnologie sono non posso dire onnipotenti perché non sono onnipotenti ma ci vanno molto vicino sono in grado di parte di manipolare i pensieri cioè di decidere che pensieri bisogna avere di decidere che gusti bisogna avere gli odori i sapori i ricordi le sensazioni io quando ero piccola avevo i deja vu che sono quei momenti in cui vivi una scena e hai quella sensazione che l'hai già vissuta in quei due secondi quell'attimo neanche due secondi per un attimo ne ho avuti tantissimi oppure avevo da piccola sentivo a un certo punto una goccia d'acqua fredda su un polpaccio poi mi girava ma il polpaccio era asciutto c'era una cosa così e anche altri della mia famiglia avevano queste cose qua in pratica queste cose strane oppure il filo non so se qualcuno l'ha mai saputo quando si cammina che sembra di essere legati a un filo e non si può mai annodare queste anomalie che di cui ho già sentito anche parlare altre persone hanno avuto questa cosa qua sono tutte indotte da queste armi c'è anche da piccoli noi riceviamo queste queste cose queste stranezze che non sono naturali non esiste in natura una persona che mentre cammina si sente di essere legata a un filo che non deve non può mai fare un giro intorno a un palo della luce qualsiasi cosa perché sennò si annoda queste stranezze che può sembrare da pazzi ma sono tutte state indotte praticamente queste persone che usano queste tecnologie stanno comunicando con noi che le subiamo e ci vogliono far sapere guardate che noi facciamo questo guardate che noi siamo capaci secondo me questi tutti questi testimoni non sono casuali sono gli servono perché devono dircelo che loro stanno facendo questo il motivo per cui devono dirlo è un po più difficile da capire è detto delle cose sono molto tecniche e scientifiche tutto quello che è detto è tutto vero perché l'hanno fatto anche a me le stesse identiche tecniche le stesse identiche manipolazioni mi facevano vedere degli ologrammi visivi i sogni che sembravano film a realtà virtuale le sensazioni sul corpo che ti fanno sentire i capelli che ti cascano sul corpo che ti fanno sentire caldo e freddo ti fanno credere che ti casca l'acqua sulle mani sulle braccia sulle gambe è tutta una manipolazione per creare ovviamente una sorta di mappatura delle frequenze cerebrali e creare una sorta di clone così loro possono manipolare le nostre frequenze attraverso una tecnologia che rigenera con un elettroencefalografo trascranico elettromagnetico queste nostre sensazioni infatti ci sono state delle ragazze gli facevano sentire l'odore del fumo dentro casa ci sono state invece delle altre vittime facevano sentire il gas dentro casa o addirittura gli facevano sentire l'odore degli escrementi o anche altri odori che corrispondono a determinate altre cose non voglio ovviamente spiegare in dettaglio o addirittura aumentavano determinate sensazioni dell'eccitazione oppure diminuivano il desiderio sessuale oppure cambiavano l'umore di una persona con il proprio compagno con la propria compagna e infatti quando io poi feci un video che ho postato sul mio canale di youtube angeli custode mk oltre italia si parlava di porno ipnosi ma non è un video che parla di determinate cose della dire la pornografia ma parla di come venivano manipolate le frequenze cerebrali di persone che stanno insieme fidanzati sposati che non potevano più vivere una vita sessuale normale come tutte le altre persone perché venivano attaccati attraverso queste manipolazioni attraverso queste frequenze sparate nei centri nervosi centrali infatti alla ragazza che che io poi feci l'intervista una ragazza delle lumbre se non mi sbaglio la ragazza gli dicevano in testa che il ragazzo la trattiva con un'altra persona e lei ovviamente all'inizio non ci credeva invece dopo ha incominciata ad avere delle manipolazioni talmente forti che ha incominciato ad avere dei dubbi e ha incominciato andare in giro per strada a vedere se c'era veramente il ragazzo o non c'era con un'altra persona la stessa cosa che hanno fatto alla ragazza che sto intervistando adesso che gli facevano credere che era il vicino di casa oppure che stavano sotto casa la tecnologia è talmente avanzata che è in grado di spiare la nostra vita loro studiano la nostra vita le nostre abitudini sanno quello che ci piace sanno quello che ci dà fastidio e poi ci rimettono le frequenze e le basse all'interno del cervello per crearci delle suggestioni amplificate patologie amplificate nel nostro corpo perché se noi prendiamo uno spillo e praticamente ci puggichiamo una mano loro sanno che quella frequenza corrisponde allo spillo che sta pungendo la mano allora loro colonano quella frequenza e ci rimettono la stessa identica frequenza su un piede o addirittura sull'altra mano e ci fanno capire che loro possono aumentare diminuire determinate frequenze del dolore del pianto del sorriso anche perché molte volte ci sono delle vittime che incominciano a ridere senza nessun motivo in determinati luoghi anche un po particolari un ragazzo di napoli mi disse che quando stava al funerale del parente gli mettevano delle frequenze fortissime lui incominciato a ridere all'interno della chiesa alla fine è dovuto uscire fuori dalla chiesa perché gli altri parenti dicevano ma perché stai ridendo e invece erano loro che gli manipolavano di frequenza all'interno del cervello oppure il teatrino da strada il teatrino da strada o le persone che stanno scusa un attimo che volevo dire solo questa cosa i teatrini da strada delle persone vedono credono che ci sono centinaia di stalker che ci seguono perché ci devono attaccare in un determinato modo ma in realtà molte di queste persone che vengono manipolate per strada per farci vedere proprio come la tecnologia interagisce con le persone che ci circondano anche con gli animali che ci circondano creano la manipolazione e pilotano queste persone non si accorgono di essere pilotate e questo lo scopo di questa tecnologia manipolare una popolazione senza che la popolazione si accorga di essere manipolata ma noi cavi umane noi che ci siamo risvegliati da questo sistema che rileviamo queste frequenze estratensoriali e che abbiamo gli effetti collaterali del sistema che vengono amplificati poi da questi operatori da queste agenzie deviate sovra istituzionali capiamo e incominciamo a studiare come funziona realmente il programma di controllo e di manipolazione mentale infatti la ragazza ha specificato perfettamente gli attacchi e le manipolazioni che vengono effettuate a centinaia e centinaia di persone sia in italia ma in tutte le parti del mondo perché prima devono creare la psicologia del terrore ci bloccano poi una parte del cervello e poi cominciano a immettere attacchi manipolazioni frasi offensive o addirittura frequenze del dolore e vari altri tipi di di manipolazioni mentali proprio per buttarci giù psicologicamente ma ormai noi ci siamo abituati a questi attacchi a queste manipolazioni che non ci facciamo più caso puoi continuare tranquillamente ok per come me l'hanno fatta capire loro e per come me l'hanno descritta loro praticamente la situazione è questa loro hanno una mappatura di io dico di tutto il mondo ma può essere anche solo di alcune nazioni di alcuni continenti loro sanno esattamente quali persone ci vivono e sono tutte radiocomandate nel senso che loro hanno come un certo senso come se fossero davanti a uno schermo di un computer in cui c'è ad esempio una città come dicevi tu e ci sono i personaggi ovviamente non è che loro gestiscono tutti i personaggi tutto fatto automaticamente la famosissima intelligenza artificiale in realtà loro ce l'hanno già da un pezzo cioè le persone sono già tutte mappate segnate quello è tizio quelle caio quella lì si chiama così a quella lì deve piacere questo questo deve piacere quello ogni persona gli viene messa un carattere gli vengono messe dei modi di fare un modo di parlare e anche influiscono molto sulle caratteristiche fisiche già da quando sono dei feti cioè le malattie le varie cose o le particolari caratteristiche molte volte sono già i loro interventi sulle cellule dei feti non sempre spero perché sinceramente sarebbe una cosa orribile però diciamo che possono se vogliono possono e già quando nascono sono già tutti telecomandati sono già tutti dei piccoli non robot perché non sono robot ovviamente ma delle delle marionette dei burattini non non hanno una volontà propria ma ognuno viene deciso come deve essere se uno deve essere uno modo o in un altro una mia amica una volta mi ha raccontato anche di di situazioni particolari di di un bambino che all'asilo nessuno lo capiva i genitori non lo capivano pensavano si fosse inventato un linguaggio suo invece sto bambino parlava in russo e nessuno gli aveva mai insegnato cioè non è possibile una cosa del genere sicuramente fatto con qualche con quel in qualche modo infatti è fatto con le tecnologie l'età ogni ogni persona è già schedata cioè hanno deciso ad esempio che tizio e caia dovevano sposarsi avere un bambino e allora loro sa cioè san già di tutti non è una cosa recente come i documenti che girano in internet dicono cioè i documenti che girano in internet io non voglio dire che non sono veri perché non posso saperlo io non so nulla di queste cose ma potrebbero essere anche un po dei diversivi per far credere che una cosa recente ma realtà non è una cosa recente io ho fatto delle ricerche sulla schizofrenia perché so che la schizofrenia ovviamente è creata artificialmente una maniera totale così sono andata a cercare in internet è perché io più di internet non è non posso usare c'è nel senso non saprei dove andare e ho letto una parte di un libro che un dottore italiano aveva scritto perché lui ha fatto ricerche sulla schizofrenia è un dottore di punto per la psiche e si chiedeva quando è che era iniziata sta psico questa schizofrenia praticamente andato indietro nel tempo più capotuto e ha scoperto che in realtà non esisteva schizofrenia la prima schizofrenia è nata nel mille tra il 1800 il 1850 cioè primi referti medici sulla schizofrenia prima non esisteva poi la schizofrenia era i primi le primi schizofreni c'erano persone che a un certo punto si bloccavano erano vive ma non si muovevano più erano come inebettite poi diventata nel corso degli anni la schizofrenia diventata tipo una specie di pazia urlavano dicevano cose c'erano proprio fuori di senno picchiavano erano tipo di indiavolati poi a un certo punto è scomparsa c'è stato un periodo lungo in cui c'è stata una specie di miglioramento economico così ha scritto il dottore c'è stato un periodo di miglioramento economico ed è scomparsa totalmente questa malattia nessuno ne ha più scritto nessun dottore ha più scritto dati su questa cosa per poi riapparire di nuovo nella schizofrenia che adesso conosciamo noi tutti quanti e quindi questa cosa qua mi fa pensare già dal 1800 stavano facendo esperimenti di dominio quindi la prima schizofrenia era sicuramente uno dei primi modi per vedere come che riuscivano a dominare qualche d'uno e poi piano piano hanno perfezionato questa è stata la mia idea io dico solo la mia ricerca poi ovviamente l'ho dedotto da quello che ho trovato in internet dal libro di questo dottore mi prendo la mia responsabilità assolutamente comunque la praticamente la situazione è questa noi siamo tutti quanti di piccoli personaggi su un pianeta che loro ormai gestiscono in maniera autonoma c'è quello che fa sport perché hanno deciso che faccia sport come c'è quello che sulla sedia a rotelle perché hanno deciso che deve stare sulla sedia a rotelle perché loro pensano che tutti devono essere in un modo in un altro diversi devono soffrire devono farciare tutte queste idee no quindi loro gestiscono assolutamente così le faccende quindi io capisco che tu hai detto una cosa diversa che hanno registrato le sensazioni delle persone poi le hanno ridi e le hanno rimandate contro in realtà non se come come la so io non hanno registrato erano già cose che hanno loro nei loro computer registrati te li hanno mandata addosso alla persona e poi dopo avrà magari ha fatto finta di rimandarle ma la verità che già la prima volta gli hanno mandate allora scusa scusa che ti interrompo io io ho un elettroencefalografo e abbiamo fatto le analisi a casa delle vittime del controllo mentale ho riscontrato che modificavano le frequenze le frequenze quindi non è che lo dico io i test che abbiamo fatto io seguo 750 vittime che sono in italia e poi ce ne sono 6500 in tutto il mondo con associazioni internazionali e stiamo facendo molti studi e molte ricerche che analizzano queste frequenze mentre una persona viene sottoposta ad attacco e manipolazione essendo anche io una vittima del controllo mentale la prima cosa che ho fatto e sono un tecnico perché faccio impianti industriali eccetera eccetera montantenne eccetera eccetera ho incominciato a capire e a studiare che queste frequenze provenivano dall'esterno del mio corpo non dall'interno del mio corpo e l'unica cosa che poteva creare un sistema di tracciatura in tutti i posti dove io andavo era solo una tecnologia satellitare e nel 2001 non si parlava di tecnologia satellitare da nessuna parte addirittura non si sentiva parlare su internet qualunque tipo di canale web io cercavo non si parlava di intercettazioni ambientali satellitari o di pedinamenti a tracciatura satellitare si parlava solo di tecnologie di intelligence e controspionaggio che utilizzavano determinati sistemi gps satellitari ma per determinati scopi importanti a livello internazionale cioè il mega il mega latitante il mega terrorista il mega narcotrafficante invece dopo è uscito fuori durante le varie ricerche che noi abbiamo fatto che ci sono state praticamente delle persone che venivano pedinate con questa tecnologia e uno di questi è stato pablo escobar poi c'è stato ci sono state varie altre indagini operazioni internazionali che sono state fatte dall'interforze dall'intelligence e da lungo operativi speciali e ultimamente è uscito addirittura un articolo su il su rai 1 alle 13 e 30 che hanno parlato che avevano arrestato eto al eto al eto al è quello che ha preso il posto di pablo escobar quindi è il numero uno dei narcotraficanti a livello mondiale e diceva la presentatrice insomma del telegiornale poi quello che abbiamo letto su vari articoli che che eto al è stato rintracciato con intercettazioni ambientali satellitari con un'operazione congiunta di intelligence servizi segreti dei nucleo operativi speciali e forze speciali militari che sono andati poi nel luogo esatto dove lui stava e l'hanno preso quindi quando noi poi abbiamo fatto le denunce e le abbiamo portate all'inizio le portavamo nelle caserme commissariati eccetera eccetera dopo invece abbiamo capito come funzionava che bloccavano le denunce non le facevano arrivare dove dove venivano arrivare non venivano protocollate al tribunale d'appartenenza siamo andati diretti al tribunale e abbiamo denunciato quando noi denunciavamo ci dicevano che queste tecnologie non esistevano quando poi non gli portavamo i video gli facevamo vedere guarda che qui si parla di intercettazioni e pedinamenti satellitari loro non sapevano più che cosa dirci perché loro negavano che esisteva una tecnologia che faceva questo adesso con le ultime ultimi ritrovati tecnici non possono dire che non vengono controllate le persone con questi sistemi perché l'intelligenza artificiale infatti su un video che ho fatto io parlavo dell'occhio di dio che sarebbe echelon il sistema più avanzato di tecnologia di controllo e di spionaggio e di sicurezza nazionale anche mondiale attraverso 3000 satelliti in orbita loro controllano tutti e tutta la popolazione che viene spiata con questo sistema solo che la popolazione non si accorge di essere spiata perché le frequenze che immettono attraverso queste tecnologie che creano ovviamente radiazioni noi creiamo che addirittura queste micro onde che loro sparano siano uno dei problemi o che può essere definito del sudiscaldamento globale perché se io punto 3000 satelliti con una tecnologia ARP satellitare oppure faccio credere che queste frequenze sono frequenze in natura del sole ma in realtà sono microonde che penetrano il cervello i centri nervosi di una persona per essere manipolata attraverso il controllo della mente a distanza è vero che uno quando nasce in una nazione automaticamente è già sottoposta a controllo e spionaggio perché se la tecnologia sta sopra quella città automaticamente loro studiano il comportamento dell'individuo e possono anche manipolare il comportamento dell'individuo nel fargli credere determinate cose o fargli fare delle azioni un po' particolari e crediamo che tutti questi anomali omicidi suicidi che stanno succedendo in italia che molti di questi siano proprio di pesi cioè che vengono effettuati proprio queste tecnologie di controllo e di manipolazione che inducono le persone a pensare di fare questo gesto disperato oppure di prendere un oggetto conduttente a magari ammazzare la vicina di casa magari ammazzare il proprio figlio o addirittura alcune vittime gli hanno fatto credere che erano possedute dal diavolo e sono andate dall'esorcista per farsi fare praticamente l'esorcismo ma non è servita niente perché è stato un pagliativo hanno fatto credere che la persona non sentiva più le voci non aveva più questi disturbi sul corpo e dopo una settimana gli hanno detto addirittura ma noi scherzavamo ma quale diavolo siamo noi che ti facciamo questa e sta ragazza poverina ha ricominciato a ristare male o abbiamo avuto il caso di una vittima di roma che come lei poverina la facevano entrare uscire dagli ospedali perché gli facevano i tso in continuazione perché andava in pronto soccorso andava all'interno degli ospedali diceva che questi gli creavano queste sensazioni disturbi sul cuore disturbi respiratori disturbi all'interno della testa e abbiamo riscontrato che questi attacchi vengono fatti di frequente a tantissime vittime che poi ci mandano la relazione di quello che loro gli succede oppure la testimonianza scritta molte volte di quello che loro gli succede e gli attacchi e le manipolazioni sono quasi sempre i stessi tranne ovviamente i casi particolari che se te credi che il diavolo loro ti fanno credere che il diavolo che ti attacca se te credi che sono gli angeli non li fanno credere che sono gli angeli oppure se te credi che sono gli alieni loro ti attaccano sempre facendo di credere che sono gli alieni oppure se litighi con un vicino di casa con un parente li fanno credere che il parente che ti attacca con queste armi con queste tecnologie però abbiamo fatto pure capire a queste persone ma come fa il tuo parente ad entrare all'interno di queste basi segrete militari o paramilitari e interagire con questa tecnologia che è avanzatissima e che è segretissima e loro dicono perché la manipolazione gli fa credere che basta che pagano qualcuno e questo si mette davanti a queste postazioni e spara queste frequenze sul corpo delle persone qui parliamo di centinaia di miliardi di euro di tecnologia che per mantenerla in piedi questa tecnologia ci vogliono centinaia di milioni di euro al giorno pensate quante persone vengono controllate spiate in tempo reale solo nella nazione italiana ma come fanno a gestire una tecnologia tale e una miliardi di dati che vengono registrati in continuazione vengono archiviati o addirittura vengono con un'intelligenza artificiale studiati analizzati qui si parla di analisti dell'intelligence intelligence geospaziale si parla di scansioni biometriche corneali scansioni biometriche facciali riconoscimento biometrico del timbro vocale perché come fanno a sapere chi è quello che è quella che è quell'altro perché lo spionaggio crea proprio questo o la tecnologia che è creata per creare spionaggio ma in realtà loro dicono che sono indagini preventive per la sicurezza di stato ma in realtà non è così questo è spionaggio a tutti gli effetti questi sono esperimenti su cavi umane a tutti gli effetti invece loro dicono che sono indagini preventive e molte volte si sono sentiti dei casi di persone che hanno detto all'interno del cervello che loro si erano accorti di questo sistema e loro dovevano utilizzare questa tecnologia per fargli credere pazzi e malati di mente invece di dargli un risarcimento danni o dargli un posto di lavoro all'interno della sicurezza nazionale li hanno buttati giù a tal punto che alla fine quando sono andati dai medici gli hanno detto subito schizofrenia, bipolarismo o addirittura cambio di personalità, manie di persecuzione ci hanno fatto prima a dargli una pensione che non un risarcimento danni questa è una cosa che tante volte noi rimaniamo a bocca aperta persone che vengono sottoposte al TSO forzato e vengono rinchiuse a un trattamento sanitario per sei mesi le mettono in cliniche o psichiatriche per sei mesi ma come è possibile? ma quella persona sta bene? io addirittura sono andato a trovare una persona a Roma un'altra ragazza che sta qui a Roma l'avevano messa in comunità psichiatrica gli ho detto scusa ma che fai? niente, tutto il giorno giochiamo a carte partiamo, fumo di fuori al giardino ci danno le pasticche la sera e siamo tutto il giorno così gli ho detto ma te non sei pazza? e io gliel'ho detto loro non mi credono e mi lasciano qui rinchiusa all'interno di questa clinica ma come è possibile? una persona dice la verità e viene rinchiuso nel manicomio allora se dicevamo le cavolate ci inventavamo le cose perché non stavamo perché neanche quelli che giudicano queste persone secondo me sono in sé anche loro sono obbligate sì, è vero sono obbligate a tenerla chiusa nel manicomio sono obbligate a credere in quello che dicono cioè sono tutti telecomandati quello che stavo cercando di far capire lo so che è una mia parola contro tutti no, è vero quello che dici non è la tua parola contro tutti la manipolazione delle masse attraverso la tecnologia di controllo e di spionaggio esiste, è vero perché lo fanno vedere nel film Matrix lo fanno vedere nel film Fattore di Controllo ne parlano da tutte le parti attraverso i sistemi addirittura quelli che hanno messo Moincina le super telecamere che controllano tutti vedono tutti registrano tutti quelli che camminano per strada cioè, ecco, pensa che in Italia vogliono mettere le super telecamere per controllare le persone all'interno delle metropolitane all'interno degli aeroporti all'interno delle stazioni e non ne hanno bisogno perché le controllano già cioè, è questo che dico tutte queste cose che mettono adesso ma è un business miliardario la tecnologia militare è un business allora loro devono giustificare i miliardi che escono dalle tasche dello Stato come li giustificano? serve la sicurezza serve la tecnologia che controlla per proteggere le persone da eventuali attacchi da eventuale spionaggio da eventuale controllo quello è il giochetto se io creo con questa tecnologia di manipolazione mentale creo dolori allo stomaco a 10 milioni di persone nel territorio nazionale italiano che fanno queste 10 milioni di persone? vanno tutti all'ospedale vanno tutti a comprare i farmaci vanno tutti dai dottori e c'è un giro dei miliardi e quello che già sta succedendo infatti infatti la stessa cosa pure che l'hanno effettuata durante il periodo dell'anomala influenza mondiale che simulavano determinate sensazioni sulle persone me l'hanno fatto pure a me e mi facevano credere che io stavo male che dovevo andare di corsa all'ospedale perché avevo l'anomala influenza oppure hanno creato delle manipolazioni mentali per indurre le persone a farsi per forza la puntura di zanzara perché gli facevano credere che con la puntura di zanzara avevano risolto il problema e che loro non si sarebbero mai ammalate invece se sono ammalate peggio ma quante cose hanno creato? i tumori non le hanno creati? le malattie mentali non le hanno create? sì, ma gli infarti ultimamente tutta la gente muore di infarto e stanno benissimo ma com'è possibile? quella c'era un atleta che ha fatto tutte le visite era perfetto addirittura con le lastre la tacca e tutto perfetto è morto durante la notte così all'improvviso ma com'è possibile? sì è quello com'è possibile? non è possibile vogliono farci vedere come funziona questa tecnologia è che loro hanno il potere di dare la vita e la morte a chi vogliono esatto questo me l'hanno detto anche a me e tra l'altro adesso usano la scusa di certe punturine che dicono che è colpa loro per carità non voglio dire che siano cose buone però in realtà sono loro alla fine sono loro che decidono nel momento che uno stacca e muore togli il collegamento e muore vogliono diminuire la popolazione mondiale a 5 miliardi e devono eliminare 2 miliardi 800 milioni di persone sembra un film di fantascienza scopo loro dicono che noi siamo troppi e che è un bene eliminare queste persone per poter far sopravvivere la razza umana ma com'è possibile? scusa siamo stati sempre bene abbiamo avuto sempre le risorse necessarie per poter vivere e anche sopravvivere su questo pianeta invece no adesso hanno detto i potenti del nuovo ordine mondiale le istituzioni a livello sopra nazionale sopra istituzionali no non va bene siamo troppi dobbiamo diminuire ma com'è possibile? io penso io penso che anche loro siano radiocomandati sono dei capri espiatori io penso dico solo la mia che anche loro non siano in sé quelli che li telecomandano sono altri e li telecomandano da tantissimo tempo però dico io lo dico perché comunque è una cosa anche da ragionarci sopra quindi certo ti hai fatto una riflessione una riflessione su quello che hai studiato e sulle tue anche esperienze più che altro sulle mie esperienze che penso che ho studiato perché ho studiato poco su sta storia perché quando io cercai informazioni all'epoca nel 99 in quegli anni lì non c'era niente su questo non c'era niente è vero si parlava solo di armi psicotroniche che poi tra l'altro erano messe in questa maniera dei veggenti gente con delle capacità in più venivano prese dai servizi segreti americani per vedere se riuscivano a comunicare col pensiero lì venivano messe delle macchine per fare cioè renditi conto quando io ho cercato informazioni cosa si sapeva e poi non ho più cercato nulla quindi io non sapevo queste cose qua io le sono venute a sapere adesso dal 2021 2021-2022 perché con tutto sto casino che è successo ho cominciato a dire ma quasi quasi comincio ad aprirmi delle pagine sui social e inizio a comunicare anch'io sta cosa perché era sempre una cosa che rimane cioè io me la sono vissuta tutta da sola non ho mai avuto nessun sostegno da nessuno me lo immagino me lo immagino perché i primi anni ho fatto così anche io poi mi sono cavolato ho detto adesso apro i canali da tutte le parti e comincio a divulgare da tutte le parti e quando ho aperto i canali ho scoperto che c'era gente che ne parlava io sono rimasta proprio di stucco ho detto ma c'è già gente che ne parla e allora lì ho iniziato a conoscere gli altri quelli che si facevano chiamare target ed individual cioè gli individui mirati insomma ho iniziato a capire che c'era molta gente che ne discuteva poi chi accusava la CIA chi accusava l'FBI ognuno aveva il suo perché poi comunque ognuno si sta vivendo purtroppo il suo modo in modo suo la situazione però ho scoperto che non ero sola cioè sapevo già che non ero sola ma non pensavo di trovarmi lì così neanche in Italia sono tantissimi in Italia sono tantissimi ma proprio tanti 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 io in tutti questi anni da quando poi ho aperto i canali i gruppi su Facebook poi ho aperto il pensa che sul blog che avevo creato così per gioco per mettere insomma le notizie più importanti che è satellitispia.blogspot.com sono arrivato a 3.250.000 visualizzazioni a livello mondiale pensa quanta gente sta seguendo quello che io scrivo su questi blog per esempio vittime del controllo neurale satellitare.blogspot viene censurato e bloccato perché io me ne accorgo allora praticamente deviano l'indirizzazione su internet per trovare praticamente quel blog che si parla di controllo e di manipolazione mentale il film che io ho pubblicato da tutte le parti che è Fattore di Controllo Control Factor che era il titolo che è uscito poi negli Stati Uniti d'America bloccato in tutte le parti del mondo ho messo uno spezzone delle parti più importanti del film dove si parla proprio del programma MK Ultra di come le persone vengono manipolate come si rivolgono risvegliano e quando si risvegliano e cominciano a sentire le voci lo dicono proprio nel film bloccato in tutte le parti del mondo ho detto ma com'è possibile che non vogliono far vedere dei semplici spezzoni di questo film perché qualcuno ha comprato i diritti del film magari potrebbero essere agenzie deviate agenzie sovrastituzionali e allora adesso possono gestire come vogliono questo film e eliminano tutte le notizie che sono più veridiere o che parlano delle argomentazioni o del controllo della manipolazione mentale ma quindi scusami dimmi c'è una parte di persone che vuol farci sapere che esistono queste tecnologie perché siamo noi stessi testimoni io li sento vogliono che io lo dica io lo dico e c'è una parte di persone che invece non vuole farlo sapere cioè in pratica c'è una lotta tra di loro e veniamo coinvolti noi allora loro ci vogliono far conoscere l'economia e ci vogliono far vedere che cosa possono fare con questa tecnologia ma in realtà noi da quello che loro fanno capire a molte vittime non vogliono che le vittime divulgano quello che loro ci stanno dicendo e perché ce lo fanno sapere ce lo fanno sapere perché vogliono vedere come noi ragioniamo come noi studiamo come noi risolviamo i problemi degli attacchi e delle manipolazioni perché infatti molte vittime cercano poi di modificare purtroppo la loro vita sapendo che viene ispiato 24 ore su 24 dentro casa poi molte ragazze che dicono che ti stai facendo la doccia noi ti vediamo le ragazze poverine si sentono in soggezione allora tante di queste ragazze dicono ho risolto mi metto il costume da bagno mi faccio la doccia col costume così non mi vedono non mi vedono nuda oppure a tante altre persone che dicono le cose che c'hanno dentro i cassetti a me mi dicevano al terzo semaforo a destra c'è un incidente non girare io cosa ho fatto invece di cambiare strada ho detto fammi vedere se mi dicono veramente la verità ho girato al terzo semaforo a destra e c'era l'incidente mi sono avvicinato vicino a questa persona e la voce ha detto vai via non gli è successo niente ci vuole provare con l'assicurazione ma chi sa una cosa del genere chi può controllare uno che gliel'ha fatto fare non sa solo chi gliel'ha fatto fare l'incidente e tutto il ragionamento è tutto creato in un determinato modo infatti nel film nel filmato che io ho messo ultimamente dove il dottore quel medico americano che dicono che addirittura lavorava anche nei servizi segreti che lo trovate sul mio canale di youtube Angeli Custodi MK Ultra Italia lui dice che questa tecnologia potrebbe anche servire per manipolare le menti delle persone durante le votazioni politiche o addirittura indurre le persone ad acquistare sostanze stupefacenti o a comprare a forza farmaci ci sono 400 miliardi di euro di introiti proprio rilevanti alla psichiatria a livello mondiale cioè è quello che a loro gli interessa io creo la patologia e costringo la persona ad andare a fare delle visite ma la persona o l'individuo lo sa che non ha niente però loro ti costringono a forza a fare tutti gli accertamenti perché ti viene il dubbio insomma senti il dolore senti quello senti quell'altro senti quell'altro sì anche a me fanno così la stessa cosa lo fanno pure con me io addirittura andavo al pronto soccorso perché diceva adesso vado a fare la mi facevo fare una ricetta un qualcosa che doveva un certo senso dimostrare che io veniva attaccato e manipolato con determinate frequenze durante la notte entravo nel pronto soccorso come mi chiamavano per fare la visita levavano tutto non c'erano più niente finito non c'erano più un disturbo niente ho detto hai capito come fanno hanno levato tutte le patologie così se mi fanno le analisi e vedono che ne so misurano la pressione o mi fanno che ne so un attacco un elettroencefaloco o qualunque altra cosa non si trova niente scompare tutto e non ho più patologie poi ho conosciuto una ragazza che lavorava al pronto soccorso dopo il periodo dell'anomala influenza e lei ha detto che c'erano nel periodo prima l'anomala influenza dei malati immaginari lei li chiamava delle persone che si presentavano al pronto soccorso che dicevano che stavano morendo ad un infarto che c'erano blocchi respiratori che c'erano dolori patologie che c'erano schemie gli facevano le analisi le cure tutto quanto e che scompariva tutto quanto una volta che avevano pagato il ticket una volta che erano entrate si erano messe praticamente sopra la lettica mentre stavano visitando questi non avevano più nessuna patologia non avevano più niente addirittura tante di queste persone si rifiutavano di essere ricoverate per fare accertamenti perché non avevano più nessuna patologia sul corpo queste sono tutte prove però comunque sono tutte prove prove che esistono queste tecnologie noi abbiamo solo queste cose qua queste cose che succedono ma che non le poi le registri come fai comunque ce l'abbiamo tutti quanti tutti quanti abbiamo avuto delle sensazioni delle cose c'è chi sente le persone morte se le sente vicino c'è il mio caro ancora lì in realtà anche queste sono indotte brava è così è così inducono tutto ma anche la cosa degli alieni mi dispiace c'è molta gente che ci crede veramente tanto molta gente dice di aver subito l'abduzione una cosa del genere che che hanno vissuto hanno vissuto tutti la stessa cosa tutti hanno vissuto di essere su una specie di lettino con delle personcine intorno particolari ma quello l'hanno io lo so già che gliel'hanno fatto gliel'hanno messo in testa durante il sonno infatti quelli accanto a loro che dormono a fianco non si accorgono mai di nulla sì è così è come dici te noi l'abbiamo detto a tanti esperti però spiegarglielo gliel'abbiamo detto a tanti esperti guardate che l'adduzione aliena potrebbero essere dei programmi di controllo e di manipolazione mentale che vengono fatti esatto durante la notte durante il sonno loro dicono no no non è così sono gli alieni sono gli alieni perché la manipolazione raggira li obbliga a farli pensare altre cose per raggirare la vera tecnologia di controllo della mente a distanza anche io gli ho parlato ma sono molto fissati non andando neanche ascolto neanche ipotizzare sì può darsi che hai ragione no niente proprio loro dicono sono alieni e basta è chiuso l'argomento mi dispiace perché mi rendo conto che non riescono a vedere la faccenda anche in un'altra maniera però purtroppo è così ognuno ha ti dico le proprie le proprie problematiche da risolvere quindi siamo tutti sotto torchio in realtà secondo me no è così è come dici te tutto quello che dici è tutto vero perché sono le stesse identiche sensazioni manipolazioni che hanno fatto a me e che hanno fatto a centinaia e centinaia di persone che io sto seguendo e che poi abbiamo fatto anche le interviste di Simone anzi le abbiamo pubblicate sui miei canali quindi tutti dicono le stesse identiche cose e non è possibile che dicono tutti le stesse cose ma sono tutte persone che neanche si conoscono addirittura stanno in tutte le parti d'Italia sono persone che non hanno avuto mai contatti con altre vittime e che possono praticamente conoscere la situazione di un'altra di un'altra persona quindi il programma in realtà inizia con la manipolazione le torture gli attacchi le frequenze le manipolazioni ci buttano giù psicologicamente ci vogliono far credere di tutto e di più e poi io dicevo ma con questa tecnologia si possono salvare milioni di persone perché possiamo individuare i tumori possiamo individuare le patologie cardiache ma perché non utilizzate rigiovanire le cellule io ho detto perché non utilizzate questa tecnologia per aiutare a salvare le persone se la usano per se stessi no mi dicevano che non avevano introiti guadagno no no la usano per se stessi e basta sono solo golisti per creare patologie avevano guadagno ma per salvare le persone il guadagno non c'era più perché ovviamente dopo non vendono più la chemioterapia la radioterapia tutti questi farmaci non vengono più venduti anche il giochetto dell'anomala influenza a livello mondiale ma chi ha fatto diventare stramiliardani le lobby o la massoneria o le industrie o gli oligarchi delle industrie farmaceutiche delle società di ricerche e di analisi a livello internazionale ma qui si parla che questi hanno guadagnato centinaia di miliardi in due anni non stiamo parlando di spiccioli o di o di semplici guadagni così dicendo sai questi hanno guadagnato una cifra così erisoria no qui si parla di centinaia centinaia di miliardi come si hanno voluto far vedere al mondo intero noi abbiamo il potere di gestire qualunque tipo di tecnologia di creare qualunque tipo di patologia o qualunque tipo di epidemia a livello mondiale nessuno ci può dire niente diventa veramente una cosa pericolosa cioè ma la sicurezza nazionale dove sta l'intelligenza italiana dove sta perché non protegge le persone che è già radiocomandata che sono radiocomandati oppure qualcuno paga tutti i pagamenti pagano queste persone perché questi sono diventati ormai dei mercenari e io li chiamo la mafia militare o terroristi militari potrei anche dire che può darsi che siano corrotti diciamola però magari perché mentalmente non riescono a dire di no sono obbligati si sentono comunque anche in colpa perché sono coinvolti ma nello stesso tempo non avrebbero colpa ma non lo sanno di essere innocenti loro pensano di essere colpevoli questo l'hanno fatto tantissimo a tantissime persone però se pensi di essere colpevole non chiedi soldi perché te sei manipolato lo fai e basta invece questi sono mercenari questi stanno lì a fare gli esperimenti proprio perché guadagnano soldi appalate hai visto gli oligarchi russi li hanno presi con yacht da un miliardo di euro cioè parliamo di hanno trovato conti correnti di 4, 5, 10 miliardi di euro miliardi addirittura di dollari quindi parliamo che queste persone che gestiscono questa tecnologia o riescono a gestire varie tecnologie di controllo e di manipolazione possono gestire anche le armi la vendita delle armi la vendita dei satelliti la vendita delle tecnologie di spionaggio e di controllo o le intelligenze artificiali che adesso stanno praticamente le stanno creando e montando in tutte le parti del mondo ogni nazione adesso ha l'intelligenza artificiale che gestisce quello che gestisce quell'altro addirittura l'intelligenza artificiale che riconosce determinate persone che parlano al telefono una delle intelligenze artificiali più semplici che ci hanno voluto donare ma le persone non sanno che quello serve proprio espiarci è quando noi facciamo la ricerca vocale con il telefonino e ricerchiamo quel determinato tipo di prodotto o cerchiamo quella determinata via loro così sanno perfettamente che il telefonino è associato a una persona quella persona è associata a un contratto telefonico e siccome il telefonino ha il gps ha la bussola elettronica utilizza un giroscopio quindi è un geolocalizzatore che noi ci portiamo dietro ogni giorno anche quelle frequenze vengono manipolate per alterare queste amplificazioni e queste modifiche dei stati d'animi delle persone perché abbiamo riscontrato che all'interno della corrente elettrica nazionale ci sono delle anomale frequenze che sono state pure denunciate queste frequenze da vari ricercatori internazionali che hanno denunciato che non riescono a capire perché ci sono queste frequenze che vengono immesse nella corrente elettrica perché la più grossa antenna che esiste nella nazione italiana è proprio la rete della corrente elettrica perché sono frequenze ad onde convogliate fatalità le frequenze corrispondono a patologie celebrali cioè come se ci vogliono come diceva Corato Malanga ci vogliono rincoglionire non ci vogliono ammazzare ma ci vogliono rincoglionire perché un popolo rincoglionito non capisce quello che fa non capisce chi deve votare o chi sta votando o non capisce quello che deve fare e non si sa salvaguardare la salute è vero è vero è vero è vero anche questo infatti il popolo non è sveglio il popolo è totalmente sono dei dormimenti totalmente dominato in una maniera tremenda cioè mi sembrano tutti strani io li guardo e vedo che non riescono a capire a vedere le cose sono pochi quelli che riescono a ragionare un po' ma ci sono persone che addirittura si sono dimenticate già dell'anomala puntura di Zanzara hanno come se hanno perso la memoria come se l'avvenimento non esiste non si ricordano dell'avvenimento del blackout nazionale che è avvenuto un po' d'anni fa che la nazione è stata senza totale corrente per un giorno intero quando quello dice alle persone ma ti ricordi che c'è stato il blackout nazionale che siamo rimasti senza corrente ah io non me lo ricordo quello non me lo ricordo sembra come si hanno riprogrammato la loro memoria e gli hanno fatto perdere la memoria a lungo termine e molte volte alle vittime gli fanno perdere la memoria temporanea cioè fanno un'azione ma non si ricordano di aver fatta quell'azione e dicono che gli sono entrate le persone dentro casa che gli hanno spostato le chiavi gli hanno spostato a me l'hanno fatto qualche volta il telefonino a me l'hanno fatto parecchie volte e poi ho studiato vari casi qui a Roma che mi chiamavano e mi dicevano guarda mi hanno fatto questo mi hanno fatto quest'altro e io dicevo mi mi ci arrabbio quando mi fanno queste cose mi arrabbio perché mi dà fastidio sbagliare quindi loro che mi fanno fare una cosa poi io dico che non l'ho fatta io mi dà fastidio tantissimo e certo ti fanno discutere con i parenti la stessa cosa le relazioni personali sono molto difficili cercano sovente di farlo andare un po' male diciamola così di avere difficoltà io ho avuto tante difficoltà tantissime a parte che mi hanno veramente fatto una specie di persecuzione da quando ero ragazzina perché tutti ce l'avevano con me è stata fatta questa specie di manipolazione alle persone che si accanivano molto contro di me verbalmente eccetera quindi già ho subito tantissimo sono arrivata adulta che ero già totalmente sofferente e poi dopo ancora c'è le persone in giro per la strada che mi dicono cose mi dicevano cose ed erano sempre loro non è che questi qua poverini magari sono sicuramente stati obbligati brava brava hai capito come funziona il teatrino da strada è una manipolazione che viene effettuata dalla tecnologia non che sono dei stalk che ci seguono per strada che ci devono dire delle cose questo l'abbiamo capito pure noi perché io i primi anni la stessa cosa avevo delle persone che mi venivano dietro ma io dico ma scusa ma perché queste persone mi vengono dietro a che scopo oppure dicono proprio quella cosa che tu speravi non dicessero o che pensavi che non potessero dire invece ti ritrovi così ma come hanno fatto a dire una cosa del genere come fanno a sapere o che ne so no è così è così molte volte capita questo oppure ci sono determinate circostanze molte volte di persone che magari te fai una determinata cosa e dici va bene ora nascondo qui questa cosa tanto nessuno andrà a vedere il giorno dopo vai lì e vedi che quella persona è andata a vedere proprio all'interno del cassetto e ha visto la cosa controllo mentale totale è un controllo mentale quello lo so poi c'è un altro episodio che se posso ancora raccontare che mi è venuta in mente che è importante comunque un po' di anni fa che io non mi ricordo neanche quanti ma sono già abbastanza anni fa a un certo punto durante queste conversazioni tra virgolette con questi con questi che io pensavo fossero persone questi criminali invece sono programmi anche non sono proprio persone perché parlarmi per 24 anni è lunga tutti i giorni non c'è nessuno che sta lì a parlarmi erano programmi che mi rispondevano mi parlavano mi facevano rispondere io ero totalmente in balia di conversazioni durante una di queste conversazioni non so più neanche com'è andata a un certo punto mi dicono guarda che siamo noi che ti facciamo anche rispondere siamo noi che ti facciamo dire questo siamo noi che ti facciamo pensare quello gli dicevo mi sembra di avergli detto di no qualcosa del genere ah sì te lo dimostriamo ma hanno totalmente svuotato la mente totalmente sono rimasta tipo cioè una stanza vuota capivo ma non pensavo più niente e poi ho iniziato a farmi muovere mi ha fatto mi sembra che ero in bagno mi ha fatto lavare i denti io ero così terrorizzata ho detto ma che cavolo succede non riuscivo a decidere niente nulla mi ha mosso totalmente ero un burattino totale e non mi hanno più restituito la capacità di ragionare di pensare che avevo prima mentre tu sei in grado magari di pensare ragionare senti dentro di te il pensiero il mio pensiero non c'è più in quel modo lì come era anche per me una volta è un po' distaccato e molte volte non penso agisco mi muovo come quando dicono la guida automatica sai tipo conosco così bene questa strada che io sto pensando ad altro ma il guido è un automatico è la stessa cosa in un certo senso però mi hanno tenuto vuota totale per un bel po' di tempo di giorni ma forse già anche più più di pochi giorni erano già un bel po' che mi facevano muovere loro poi piano piano ogni tanto un pensiero mi concedevano di averlo e mi facevano capire che erano loro che me lo mettevano dicevo guarda che se te lo faccio avere non è che sei tu che lo stai ragionando e io capivo lo sentivo arrivare al suo pensiero mi hanno fatto una specie di di programma in cui mi facevo sentivo arrivare il pensiero dentro di me e lo avevo il pensiero mi hanno fatto capire benissimo quanto in realtà una persona come me e io penso poi tutti in realtà perché me l'han detto che sono tutti me l'han dimostrato in realtà siamo dei corpi vivi che non possono pensare più da soli perché i nostri impulsi cerebrali tutto quello che ci aiuta a pensare che è elettrico in realtà in natura è stato sostituito totalmente da loro cioè non è che noi siamo noi non siamo morti ovviamente siamo tutti vivi però non abbiamo più una vera nostra personalità un nostro vero modo di pensare tutto quanto noi siamo e pensiamo e parliamo anche adesso che sto parlando sono loro che hanno deciso c'è un programma ognuno cioè c'è un programma che gestisce tantissime persone un'intelligenza artificiale un computer con una banca dati enorme come dicevi tu prima che sa ogni caratteristica di ognuno che decide ogni caratteristica di ognuno e quindi mi hanno voluto dimostrare assolutamente questa cosa qua e prima che sono riuscita a riavere dei pensieri decenti normali non sono neanche ancora adesso come prima come prima di quel giorno lì che mi hanno totalmente svuotata non sono più tornata cioè assolutamente sono sto molto meglio sto molto meglio mi sento anch'io a volte di pensare di fare però sovente qualsiasi pensiero immaginazione cosa loro me lo dimostrano perché non vogliono che io me lo dimentico assolutamente mi dimostrano che sono loro cioè c'è la voce di loro ma arriva il pensiero e poi dopo cioè c'è tutta una io non te la so spiegare bene la parola perché non è facile essendo una cosa mentale riuscire a farla uscire fuori spero di essere stata chiara questo è come l'ho vissuta io quello che mi è successo quindi ci tenevo a dire anche questa cosa qua si è stata chiarissima e poi hai detto delle cose molto tecniche che solo chi viene attaccato può sapere queste cose perché molte persone magari dicono ah mi creano l'acufene ma l'acufene sì è la tortura del rumore però l'acufene non è come i lavaggi del cervello il feedback continuo che ci mettono all'interno della testa di giorno e di notte ci vanno a sentire sempre le stesse frasi le stesse identiche parole o addirittura ci mettono delle frasi che ci devono insultare o buttare giù psicologicamente perché se io sono una persona che rileva delle frequenze extrasensoriali e è capace di captare i segnali provenienti da questa tecnologia di controllo e di espionaggio che viene sparata attraverso le tecnologie satellitari o attraverso le radiofrequenze che vengono immesse convogliate all'interno della rete elettrica all'interno dei wireless dei wifi dei telefonini noi valiamo tantissimo e allora loro lo sanno i manipolatori lo sanno perfettamente quanto valiamo e quindi studiano su di noi le nostre soluzioni gli effetti collaterali a lungo termine ma in realtà noi non abbiamo dato il consenso di essere delle cave umane allora loro ci definiscono delle cave umane consapevoli e poi ci sono le cave umane inconsapevoli che vengono anche loro manipolati attaccati gli fanno di tutto e di più ma non si accorgono di esserlo e invece credono che quei ragionamenti che loro hanno in testa siano i loro ma in realtà sono manipolati proprio dal sistema di controllo e di manipolazione delle masse un'altra cosa ti volevo ti volevo chiedere a livello sentimentale come ti sei trovata dopo che ti hanno attaccato che ti hanno manipolato sei riuscita ad avere un compagno una persona che ti stava vicino dove potevi spiegare insomma questo questo che ti stavano facendo no no ma no mi hanno impedito qualsiasi cosa l'hanno fatto anche con me e lo stanno facendo anche con tantissime altre vittime con tantissimi anche con gente che non sa niente che pensa che la vita gli è andata da schifo ma non è vero non è colpa loro sì 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 ci vogliono praticamente isolare e non vogliono che noi abbiamo un compagno una compagna per poter avere una vita normale come tutti gli altri infatti mi dicevano che io cioè che avrebbero manipolato le ragazze che praticamente io avrei avuto con il sistema del controllo mentale infatti ho notato che ogni volta che io mi sono fidanzato con una ragazza dopo due anni c'è stato un totale cambio di personalità della della mia ragazza cioè cambiava totalmente non gli andava più bene niente discussioni banali litigate e poi alla fine il rapporto insomma crollava io capivo che stavano manipolando questa la mia compagna lasciavo stare anche soffrivo però preferivo salvaguardare l'incolumità della mia compagna che non lasciarla in una situazione di controllo e di manipolazione che magari gli poteva creare solamente dei danni invece che insomma farla stare bene affianco a me alla fine ho lasciato stare ma questa queste ricerche che ho fatto l'ho fatto per ben tre volte ho detto va bene con questa ragazza potrebbe essere un caso mi sono rifinanzato con un'altra ragazza siamo stati bene ho detto voglio vedere se c'è la famigerata sindrome del controllo mentale dei due anni dopo due anni anche quella seconda è successo il casino manipolazioni controllo disturbi patologie stava sempre male mal di testa di tutte di più gelosie inesistenti non potevo fare più niente eppure con quella ragazza ci siamo lasciati l'ultima storia che ho avuto è stato 4-5 anni fa forse un po' di più quasi 10 anni fa d'amore d'accordo addirittura andiamo a convivere hanno incominciato a manipolare i suoi genitori che dicevano che io ero una persona che non avrei mai avuto la possibilità di mantenerla a livello economico perché ovviamente se vieni attaccato con queste armi o queste tecnologie non è che pensi di andare a lavorare la mattina quando durante la notte ti attaccano ti mettono le voci in testa o ti surriscaldano il corpo e ti devi alzare da un letto devi andare a dormire sul divano o dal divano devi andare a dormire su una sdraia di fuori al balcone una volta che ti svegliano 40 volte durante la notte mi sembravano gli esperimenti che facevano nei campi di concentramento quando volevano studiare la famigliere la famigliere la famiglia tecnica della perdita del sonno che veniva effettuata a queste vittime a queste cavie che venivano sottoposte a questi esperimenti e che avevano poi allucinazioni audiovisive entravano in narcolessia indotta e sognavano ad occhi aperti cioè una persona può non dormire per un giorno una notte due notti ma non che l'attacco e la manipolazione viene fatta per mesi interi e alla fine quando vai al lavoro dormi sulla scala dormi sul ponteggio dormi sulla scrivania e noi ci abbiamo avuto delle persone che purtroppo non hanno dormito per tantissimi giorni hanno fatto incidenti stradali sono svenuti per strada hanno perso la memoria mentre camminavano addirittura mentre stavano al lavoro e chi ha vissuto chi ha visto quello che gli è successo a queste persone hanno subito detto sono patologie mentali addirittura una ragazza gli hanno detto che era l'ischemia celebrale che era una trombosi cioè tantissime cose particolari che potevano aver intaccato alcune parti del cervello ma in realtà la ragazza stava benissimo erano loro che la manipolavano e gli creavano la sonnolenza improvvisa o gli creavano addirittura dei blocchi della memoria temporanea e non si ricordava delle cose banali che faceva quotidianamente quando stava lì al lavoro ma me l'hanno fatto anche a me io perdevo in continuazione la forbice da tecnico e la posavo sul sul ponteggio e la forbice non la ritrovavo più dicevo ma com'è possibile ma tutte le volte è sempre lo stesso giochetto mi fate alla fine ho risolto il problema ho preso dieci forbici le ho messe in tutti i punti dove io lavoravo sul ponteggio e ritrovavo la forbice nei punti dove praticamente l'aveva appoggiata ma noi non possiamo vivere così cioè non dobbiamo ragionare come loro potrebbero manipolarci mentre noi stiamo al lavoro oppure ragionare come loro ci potrebbero manipolare mentre facciamo una diretta mentre facciamo un'intervista o mentre andiamo in televisione e parliamo con determinate persone importanti quindi siamo costretti molte volte a rallentare il nostro ragionamento per pensare due volte a quello che avremmo cioè a quello che praticamente potremmo dire in una determinata circostanza perché se no poi ci sono persone o persone potrebbero essere manipolate per dire ma che cosa ha detto quello ma che è un pazzo ma che cosa il controllo mentale ma in realtà il controllo mentale è reale la manipolazione che noi subiamo è reale queste tecnologie che immettono all'interno dei nostri centri nervosi del nostro cervello attraverso frequenze onde convogliate elettromagnetiche che interagiscono con la risonanza sensoriale del nostro corpo i nostri centri nervosi camminano lavorano con impulsi elettrici e addirittura la luce che entra all'interno dei nostri occhi si trasforma in impulsi elettrici attraverso i nervi ottici arriva al cervello allora loro conoscono perfettamente la mappatura celebrale e sanno perfettamente come manipolare e quale frequenza manipolare del nostro cervello perché le frequenze sono sempre le stesse per tutti e allora loro sanno che le frequenze primarie sono sempre quelle e loro hanno già le basi per controllare e manipolare le persone a loro piacimento eh già è proprio così un'altra l'ultima cosa ti chiedo dimmi vuoi dare un consiglio alle persone che ascolteranno la tua intervista testimonianza beh innanzitutto se possono non si agitino perché tanto non è una situazione in cui bisogna preoccuparsi perché ormai è così la stiamo già subendo tutti o tanti quindi calmarsi poi cercare di restare in contatto trovare contatti con altri che hanno le stesse situazioni soprattutto se hanno bisogno di un sostegno in famiglia io non avevo nessuno che potesse testimoniare che esiste questa situazione e quindi la mia famiglia non mi ha creduto magari loro hanno bisogno che qualcuno testimoni e dica sì sì esiste è successo anche a me è successo a Tizio Caio insomma davvero un sostegno non andare a finire appunto nei manicomi o in cure assurde che non servono a niente e di potersi di fare del proprio meglio di fare del proprio meglio cosa possono fare io mi rendo conto che sono situazioni difficili e non ne hanno colpa non devono sentirsi in colpa di niente qualsiasi cosa hanno fatto nella loro vita non se ne devono vergognare perché praticamente posso dire 100% che non è stata colpa loro gli è stato indotto qualsiasi comportamento qualsiasi frase detta qualsiasi cosa quindi di non sentirsi in colpa di dare la colpa a loro voi avete fatto questo voi mi avete fatto fare questo cioè non sentirsi assolutamente in colpa non vergognarsi tanto cioè non è che vi vedono nudi eh cioè loro sanno già come siete perfettamente lo sapevano già da anni non è che la prima volta che vi vedono lo sanno come siete quindi non vi vergognate magari loro sono anche molto più brutti di voi sono schifosi sicuramente perché i criminali sono tutti brutti quindi saranno tremendi non vi vergognate di niente voi siete delle vittime ma non dovete assolutamente lasciarvi buttare giù della gente che è inferiore a voi alla fine cioè questa gente è inferiore perché sono stupidi sono cattivi stupidi non valgono nulla voi avete molto più valore dovete tenervi assolutamente su di morale e insomma contattare gli altri secondo me è l'unica cosa e per poter non sentirsi soli per potersi sfogare anche fare anche le interviste testimonianza è importante perché così la loro testimonianza viene ascoltata dalle altre vittime che possono far ascoltare anche ai loro parenti quello che stanno subendo centinaia di altre vittime nel territorio nazionale italiano per fargli capire può essere d'aiuto per fargli capire che non siamo solo noi che diciamo questo ma sono centinaia e centinaia di persone che dicono tutti la stessa identica cosa sì può essere molto d'aiuto lì dipende anche un po' dalla famiglia se è obbligata a non crederci però gli amici qualcuno magari qualcuno riesce a crederci con delle prove del genere con dei testimoni quindi non si è soli del tutto io l'ho detto anche a un'amica ma non è andata bene non mi ha creduto a mia famiglia non mi ha creduto quindi però sono arrivata fino adesso quindi non disperate che si può andare avanti allora io ringrazio insomma questa ragazza che ha avuto molto coraggio di dire quello che sta subendo attraverso gli attacchi e le manipolazioni che vengono ovviamente effettuate con queste tecnologie di controllo e di manipolazione delle masse della popolazione voglio ricordare a tutte le persone che vogliono fare l'intervista testimonianza che mi possono contattare tramite email vittime del controllo neurale chiocciolagmail.com oppure se volete contattarmi direttamente attraverso l'account di facebook l'account pubblico emiliano babilonia italia mi chiedete l'amicizia e poi tramite messager mi mandate un messaggio oppure se volete iscrivervi sul canale di youtube angeli custodi mk oltre italia o il secondo canale di youtube che è emiliano babilonia perché io dico questo perché più persone noi siamo e più possiamo praticamente divulgare queste notizie e possiamo aiutare le persone che ci sono intorno io dico che noi siamo diventati una sorta di angeli custodi e che in un certo senso sentiamo capiamo ascoltiamo le persone che potrebbero essere attaccate e manipolate con queste tecnologie e molte volte divulghiamo quello che ci succede a noi e vediamo che molte di queste persone vanno a vedere i video vanno a vedere le interviste e le simulazioni e dicono ma questo è quello che mi succede anche a me com'è possibile che succede a migliaia di persone allora si uniscono poi con noi con i nostri gruppi e insieme poi possiamo diventare la resistenza perché da soli veniamo considerati pazzi e malati di mente ma se noi siamo in tanti che diciamo tutti la stessa identica cosa non possiamo essere attaccati come persone malate di mente ma possiamo essere solamente dei testimoni che dicono tutti quanti le stesse identiche cose e quindi diventiamo una sorta di resistenza e chi manipola le nostre menti e chi utilizza queste tecnologie di controllo e di manipolazione della popolazione gli dà fastidio questo perché ci vogliono isolare ma invece noi creiamo dei gruppi uniti per poter effettuare un indomani la denuncia collettiva o addirittura fare un'intervista testimonianza collettiva andare magari a testimoniare tutti quanti insieme in televisione oppure fare delle conferenze nazionali dove le vittime possono venire e fare la loro testimonianza anche all'interno della sala conferenza e questa è una cosa importante io per adesso saluto a tutti cari amici e saluto anche la ragazza che ha voluto fare questa intervista testimonianza vi ricordo scrivetemi e fate l'intervista testimonianza perché è una cosa importante perché se rimanete da soli a casa senza fare niente diventate complici di questi manipolatori se invece date la vostra parola divulgate quello che voi state subendo diventate una sorta di non dico di eroe di stato però diventate delle persone che con la vostra testimonianza fate capire e aiutate le altre persone che entrano a far parte di questo mondo parallelo e sai quante persone che hanno ascoltato le interviste testimonianza si sono salvate ci sono state le persone che mi hanno chiamato che mi hanno detto io mi stavo buttando di sotto io ho detto che cosa è successo ho visto un suo video che lei urlava e diceva che venivano manipolate le persone col controllo la mente a distanza e ho capito che non ero pazzo ma lato di mente e fatta lì dopo quel ragazzo mi ha scritto e mi ha detto che io l'avevo salvato perché lui non ce la faceva più di sentire queste voci in testa dice se devo vivere una vita così da malato mi butto di sotto e invece poi ha capito che veniva solamente sottoposta a una sorta di lavaggio del cervello continuo infatti ragazzo ogni tanto mi scrive ci sentiamo e mi ringrazia per quello che io sto facendo per aiutare le vittime del controllo mentale buonasera a tutti cari amici grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti